Domenica l'esordio su un campo inedito per Pesaro, non ha mai giocato contro Nardò e neanche al Palasport di Lecce, quindi così anche una curiosità andare a scoprire nuovi posti, nuovi pubblici che sicuramente aspetteranno Pesaro perché il blasone sulle spalle ce l'abbiamo ma non deve mancare l'umiltà di affrontare comunque una squadra che ha una storia breve rispetto alla nostra. Andiamo a giocare in un nuovo palazzo, una formazione ben allenata, una squadra che abbiamo già visto, non l'abbiamo mai incontrato ma l'abbiamo già visto in un torneo, penso che sarà veramente un campo difficile dove dobbiamo avere la consapevolezza di riuscire a difendere per 40 minuti e cercare di mantenere il controllo del ritmo per tutta la gara. Faremo qualche variazione dopo l'infortunio di Petrovic per superire a questa mancanza e vediamo, siamo i primi a essere da un lato eccitati, dall'altro anche curiosi di poter affrontare questa sfida. Non abbiamo ancora i tempi di preciso di recupero di Danilo, purtroppo si è fatto tutto da solo, correndo, appoggiando solamente il piede, quindi una cosa così. Io diciamo che quando l'ho visto qualcuno minimizzava, io in maniera molto pessimista avevo già visto un po' che le cose non andavano troppo bene. Per noi è una grande perdita, mi dispiace per il ragazzo che mostra dell'impegno e della volontà pazzesca, all'interno della squadra stava ottenendo un ruolo importante, però adesso non ce l'abbiamo. Cerchiamo di guardare in mercato tutto quello che c'è, anche se c'è pochissimo, se non quasi niente, perché siamo all'inizio. Quindi qualsiasi squadra che vuole fare qualche tipo di movimento, piuttosto che qualche giocatore scontento, ancora adesso non c'è. Noi stiamo lì, proviamo a sondare qualsiasi cosa e intanto vediamo come va, senza crearci troppi alibi, ma cercando di prendere delle risorse da quello che noi abbiamo già.